Il sindaco di piazza non è solito intervenire sui dpcm né sulle ordinanze che si sono succeduti in questi mesi di pandemia, ma anche oggi si fa in qualche modo portavoce del sentire della gente individuando una problematica che ogni tanto riemerge. Siamo stanchi, non è solo stanca la gente, è stanco anche il sottoscritto perché affrontiamo ogni giorno delle persone che ti dicono non so più con quali soldi fare la spesa. Stamani partecipando all'inaugurazione del punto vendita a Zazzeroni in Galleria Rossoni, il sindaco è tornato su un tema che gli è caro, indicando poi l'unica arma a disposizione per mettere fine ad una situazione che sia nell'anima sia nella mente delle persone ha raggiunto forse il massimo della sopportazione. Io voglio ritornare al 19, il 19 sta a 18, il 19 sono stati degli anni straordinari per la nostra città, basta che finisca questa pandemia, per farla finire dobbiamo vaccinare velocemente la gente. L'unico vero problema adesso è vaccinare la popolazione, vaccinata la popolazione riparte tutto. Di Piazza Infine sottolinea un dato a chiudere il cerchio, secondo il sindaco i triestini hanno voglia di una normalità che è stata loro tolta come del resto è accaduto in tutto il mondo. La gente si è riversata, compreso il sottoscritto, sono andato a camminare in bosco perché abbiamo bisogno di libertà, abbiamo bisogno di muoverci, abbiamo bisogno di fare quello che abbiamo sempre fatto normalmente che adesso invece è diventato una cosa non normale.